Amici di Zona Mista, quest'oggi siamo in compagnia di Gabriele Tosti, triplista e portacolori della società Bergamo Stars. Benvenuto. Grazie mille e salve a tutti. Gabriele, campione in tutte le categorie giovanili e infine bronzo ai campionati italiani assoluti. Che valore assume questo risultato? Beh, è una grandissima soddisfazione ed è anche un po' il coronamento di un percorso costellato di tante difficoltà, tanti momenti belli e anche momenti un po' più difficili. Da due anni ti alleni e studi psicologia negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio. Com'è cambiata la tua vita? Beh, è cambiata parecchio nel senso che non sono quasi mai a casa adesso. Passo nove mesi all'anno negli Stati Uniti e quei tre mesetti d'estate più le vacanze di Natale a casa. Quindi è parecchio diversa. E data anche questa lontananza da casa, quanto conta la vicinanza e il supporto dei propri cari, degli amici nel praticare anche uno sport di questo tipo? Secondo me conta moltissimo perché nonostante la teatica sia uno sport individuale, diciamo che le persone di cui ti circondi, se sono quelle corrette, hai un sistema di supporto che funziona, hai molte più possibilità di andare avanti e di migliorare. E alle spalle c'è anche un team che ti supporta? Assolutamente. Ringrazio sempre la Bergamo Stars che mi porta dappertutto, mi ha permesso di fare un sacco di esperienze nuove anche quest'anno. E non ci sarebbe un triplista senza di loro, ecco. Quali sono i prossimi obiettivi in chiave agonistica? È una bellissima domanda. Vorrei cercare di stabilizzarmi sopra i 16 metri e continuare a fare molta esperienza e se poi sarà possibile riuscire a fare dell'atletica al mio lavoro, quello sarebbe il coronamento di un sogno. E per concludere ti chiedo come intendi coniugare a questo punto studio e sport? È una bellissima domanda anche questa. Ancora non lo so di preciso, non so benissimo che cosa voglio fare nella vita, oltre allo sport e alla psicologia, però magari potrei trovare un modo per appunto unirli un giorno, però vedremo. Grazie Gabriele per essere stato con noi e ti auguriamo il meglio sia per quanto riguarda lo sport che lo studio a questo punto. Grazie mille a voi.